Ehi! Ehi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haram Apakal Alhamdulillah ...manafa ere end So, tranquilliy asli Iqlami Grazie a tutti. e bianca Bittabli affierati itu tulisan buro'an che di dunia puno di posizione prospettacola di bambini affierati harumannu harum ad o'al-buro'an, o'al-quro'ham del wanna o'al-quro'an, o'al-masru'a ma'usur affier Nantor Taksir, la Taksir, mi d'Apabila tulisan di l'Quran e della Taksirale, maca ha avuto il sudut, bello a des, e lo amullo. Quattro mi d'Apabila Nida Farhihim U哓ir, il Ulami, ma in quanto riguarda l'impianto, sull'armi bisognati kitab tafsir jika tafsirannya lebih banyak dibanding tulisan qur'annya maka disonduk, digolok, tanpa muti, madunama rabob mafumu klapahnya apabila tulisan qur'annya lebih banyak dibanding tafsirannya maka kalau menyetukkan bapak harus mutu kodibu pokoknya lakol kuwaro kiri, lakaylayakim lakaylayakim lakol kuwaro kiri korah halal wola ku balikake kertaseng moskav wola ku balikake yang munti diklarangkain bukakeim moskav karo kiktor kain itu pun tidak boleh bila dada wakinahum mokok utari kainahum mokok teman susi kol kubwaro kiri iku layakimu perahanan koko kol kubwaro kiri kaki yang mokok utari kaki yang mokok utari kaki Bipipil kawdipi, lawan paga reni, pongka membalikkan, mincani mincani sisi tertentu kila aporonan in sisi lain, ono kakrasi dan beranti cuti kakripta, disegnaman tempat lain, itupun apabila penuh ajas, tidak boleh. Wal aso ku tepau kami sope, hal yang lain, iku aso yuk utawi ku jajik sinjurun agil baik, almu kibukan ajas atau kesoramu, iku layu menanamu. Orat tidak boleh dilakukan, iku layu menanamu, orat di alami, syarpa syarpi, min masjid muskafi, sakin menyejuk muskaf, walauki ataupun dada, kian aja tulisan Qur'annya, kalau ayam masjid, merapa kabar lidah scary. Layu namum setelah kawdipi, vulnerability mazir, bahkan ibu mazir, Wow kawdipi iman, androna kilaran, kamar lidah jajik, ngobo mu shak ota rolaq, ngobo mu shak al-aqq. ... l'asfalto l'asfalto se stanno rip allora adoscu牙ico c'è il resto non ci non ci sono se non ci sono se non ci sono ma ancora non ci sono e sei ma siamo qua Non c'è cosa diretti. Mi sono andato nelle scuole di un'acqua, senza poter. La scuole di bollare, non c'è ancora e il mio compagno. Ma questo è il sogno di un'acqua. E allora, iniziò il mio compagno di un'acqua. Perchè di un'acqua, per i ragazzi e che non è nessun altro ha rotiato si suci suci da di vada stagli, da di tera poco ma che tu per voi quassano te con il medito al al vadi itu di ketetep nanti vadi quando mandi menunggu ta quassano te con il medito qui ku al vadi di qui ku tetep e torna pesa bambina 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 ma ma la la ma ma i 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.